La frase interrogativa Nelle frasi interrogative il verbo va messo sempre in prima posizione, seguito sempre dal pronome, e poi viene il resto della frase. Per capire meglio vediamo alcune frasi. Ti piace fare sport? Fai tu volentieri sport? Machst du gerne sport? Verbo, pronome, resto della frase. Sei Pietro? Sei tu Pietro? Bis tu peta? Verbo, pronome, resto della frase. Sei anche tu di Monaco? Vieni tu anche da Monaco? Comst du auch aus München? Verbo, pronome, resto della frase. Se il verbo ha il prefisso separabile oppure se è un verbo composto, il prefisso separabile o la seconda parte del verbo composto vanno sempre alla fine della frase, mentre la prima parte del verbo si mette sempre all'inizio della frase, seguita sempre dal pronome. Prima parte del verbo, seconda parte del verbo. Vi faccio un paio di esempi. Il trattore ha funzionato bene? Ha il trattore bene funzionato? Hat der Trattor gut funzioniert? Vuole comprare una nuova auto? Vuole lei una nuova auto comprare? Vollen Sie ein neues Auto kaufen? Attenzione ora! Se la frase interrogativa è formata da un pronome interrogativo, questo va sempre in prima posizione davanti al verbo. Ad esempio Che fai? Cosa fai tu? Was machst du? Was, cosa? È un pronome interrogativo e quindi si deve mettere davanti al verbo. Pronome interrogativo Verbo Pronome Perché si ha paura del buio? Perché ha uno paura nel buio? Warum hat man angst im dunkeln? Pronome interrogativo Verbo Pronome Resto della frase Chi hai incontrato in città? Chi hai tu in la città incontrato? Wo hast du in der Stadt getroffen? Ora ti farò ascoltare un elenco di frasi. Ascolta e ripeti ogni singola frase. Chi ha nascosto il mio cappello? Chi ha dunque mio cappello nascosto? Wer hat denn meinen hut versteckt? Wer hat denn meinen hut versteckt? Chi ha rotto il mio telefonino? Chi ha mio telefonino rotto? Wer hat mein Handy gebrochen? Quanti anni ha Brigitte? Quanto vecchia è Brigitte? Wie alt ist Brigitte? Da dove vieni? Da dove vieni tu? Da dove vieni tu? Quando torna l'estate? Quando è finalmente di nuovo estate? Quando torna l'estate? Quando torna l'estate? Quando torna l'estate? Per quanto tempo rimani? Quanto a lungo rimani tu? Wie lange bleibst du? Dove vai? Dove vai tu? Quanto costa un chilo di piselli? Come molto costa un chilo piselli? Quanto costa un chilo di piselli?